Ciao a tutti da Daniela, si avvicina il capodanno. Per il tuo menù consulta il nostro catalogo delle eccellenze, dove troverai fantastici prodotti da proporre ai tuoi clienti. E per brindare al nuovo anno, non fatti mancare qual, il metodo classico incontra l'oro, con scaglie d'oro alimentari. Fantastico da proporre ai tuoi clienti, non fartelo mancare. Buon anno da Daniela, alla prossima, ciao!